Uno degli appuntamenti in presenza di questa quarta edizione è iniziata lo scorso 8 marzo della rassegna di arte, cultura e narrativa in pronte femminili per le pari opportunità e di diritti umani. L'iniziativa coinvolge 13 comuni di cui Fano è capofila e viene definita come un esperimento riuscito di dialogo tra linguaggi e territori, oltre che di collaborazione tra donne. In programma l'appuntamento dal titolo If Piccolo Drago, la mostra a cura di Paola Gennari con le illustrazioni di Mara Cerri che sarà allestita alla Rocca Malatestiana di Fano. A partire dall'11 luglio, giorno in cui si terrà l'inaugurazione alla Rocca alle ore 19, la mostra resterà visitabile fino al 22 luglio. Sono quattro anni che dedichiamo sempre comunque l'evento finale, l'evento conclusivo alla mostra delle opere dell'artista, dell'illustratrice che hanno dato il volto al manifesto e a quella che è la rassegna dell'anno corrente. Quest'anno la protagonista è Mara Cerri con la sua If Piccolo Drago e sarà possibile vedere la mostra di Mara Cerri fino al 22, dalle 18 di pomeriggio fino alle 23 sarà possibile comunque visitare la mostra. Questa mostra espone i disegni, le illustrazioni per dei libri illustrati a cui ho lavorato in quest'ultimo anno. La mostra ci saranno le immagini di tre libri che sono Il Segreto edito da Mondadori Ragazzi che presenteremo domenica qui alla Rocca insieme a Nadia Terranova che è coautrice con me del libro. Poema portoghese di Daniel Filippe, autore vissuto durante la dittatura di Salazar che racconta un'epidemia d'amore rivoluzionaria. E poi abbiamo L'Isola di Calif, un altro libro importante edito da Orecchio Cerbo che racconta la storia di un ragazzino afroamericano che è stato incarcerato. Ci sarà infine un videoclip musicale realizzato per il cantautore romagnolo Giacomo Toni. Le parole di questa ballata credo siano rappresentative anche dei contenuti della mostra. La rassegna impronte femminili si concluderà giovedì 22 luglio alle ore 21.15 alla Rocca Malatestiana, serata in cui si terrà la natura nella poesia del corto d'autrice con la proiezione dei cortometraggi selezionati alla Biennale di Venezia. Sogna il campo di Mara Cerri e Magda Guidi e Omelia Contadina di Alice Rohr-Wacher e J.R. Per la prenotazione a questi eventi che sono tutti in presenza sarà necessario chiamare o al numero 0721-887-337 oppure inviando un'email agli indirizzi info-improntefeminili.it oppure pari opportunità senza l'accento chiocciolacomune.fano.pu.it